Io vedo al telegiornale dei ragazzini sia in Ucraina sia in Medio Oriente, a Gaza, che giocano con i residuati bellici. Era esattamente quello che facevo io e i bambini come me a Roma dopo la liberazione anche, dopo l'arrivo degli americani. Io abitavo a Porta Latina, i prati fuori delle mura erano cosparsi di residuati bellici, uniformi, munizioni, armi. E noi giocavamo, erano i nostri giocattoli. È la prima cosa. Poi la seconda parte della domanda. Lei dice cosa si impara dalla pace. Si impara una cosa pericolosissima, e cioè che sembra che la pace sia una cosa data per sempre. Una banalità, io che ho conosciuto da bambino la fame, oltre alla paura dei nazifascisti che venivano a casa a cercare mio padre, io tremo, io vado nei supermercati a fare la spesa, vedo questa abbondanza di cibo, il pane così, il pane colà, i biscotti così, i biscotti, i biscotti, i biscotti. E mi ricordo, e dico, se non sia mai, la guerra ci raggiungesse, di tutto questo in un baleno non resterebbe più nulla. Scaffari vuoti, come era allora. Ecco, allora bisogna essere consapevoli che la pace non è garantita per sempre e la democrazia non è garantita per sempre. È una cosa sulla quale bisogna vigilare. Ma cosa ha capito lei? Che gli italiani quanto sono disposti ad impegnarsi affinché, diciamo, la pace sia garantita, o affinché i diritti di tutti siano garantiti? Poco, per ora. Sa perché? Perché questi segnali, che per ora sono relativamente lontani, prima che arrivino alla consapevolezza di chi non è lì come lei, me e altri duemila colleghi o altre persone che fanno un po' questo mestiere, a vigilare i confini. Chi fa altre cose, si occupa di altro o non si occupa di niente, non se ne accorge, non si rende conto che questi pericoli potrebbero diventare incombenti e quindi il segnale non arriva. L'Italia... L'Italia...